Più che rosa, la questione della formazione della Giunta Comunale di Bari sta diventando un giallo di difficile soluzione. Nella ridda di nomi che si fanno dal giorno delle elezioni, solo alcuni sono sicuri. Tutti gli altri circolano dalle pagine dei quotidiani e dei Tg nei corridoi di palazzo per poi tornare sui media. Sindaco e partiti non trovano l'accordo e non solo sulle quote rosa, ma anche su quella benedetta poltrona di vice sindaco su cui si sono avvicendati sinora almeno tre o quattro politici, ma solo virtualmente. Prima Russo Frattasi, poi Mariella Santa Croce, ultimamente Francesca Contursi, vice sindaco rosa quindi, per tornare nelle ultime ore a puntare su un uomo, Alfonso Pisicchio. La riunione di venerdì con partiti e associazioni sulle quote rosa e gli altri incontri che Emiliano ha avuto a seguire non sono serviti a dipanare l'intricata matassa. Partiamo dalle certezze, sempre relative e pronte a diventare ipotesi tramontate. Antonio De Caro alla mobilità. Ma se dovesse diventare davvero segretario regionale del PD, cosa succederebbe? Maria Maugeri confermata all'ambiente, Marco Lacarra al welfare, Gianni Giannini al bilancio. Per il PD, e Pasquale Dirella in particolare, ci sarebbe anche la poltrona di presidente del Consiglio. Elio Sannicandro, lista Emiliano allo sport, piano strategico e urbanistica. Gianluca Paparesta, tecnico scelto da Emiliano per la delega al Mezzogiorno e ai rapporti internazionali, ma soprattutto come testa di ponte con i centristi e il movimento della Polibortone. Nell'Italia dei Valori, partita aperta fra Pisicchio e Pasquilli. Il responsabile regionale Zazzera propende per Pasquilli, ma crescono le chance di Pisicchio come vice sindaco. Quasi certo il posto in giunta per Filippo Barattolo, segretario provinciale Udc. Lo vuole Casini e soprattutto rappresenta un segnale chiaro in vista della grande coalizione aperta al centro che si presenterà alle regionali del 2010, voluta da Emiliano e Vendola. Non ci dovrebbero essere problemi per Nicola Laforgia, le politiche giovanili e Annabella De Gennaro alle attività economiche.